buongiorno a tutti voi benvenuti alla live di oggi sono giuseppe scollo alias pepe su facebook e sono stra felice di far parte del team di gcle e niente oggi vi voglio parlare fondamentalmente delle delle ultime novità riguardanti segmenti di pubblico di google ads partiamo da un veloce riassunto della scorsa live perché il questa live è collegata alla volta scorsa dove ho parlato ciao fabio dove ho parlato dei segmenti di pubblico e ho parlato un po di tutte le novità di tutte delle tantissime novità che google ads sta sfornando quindi faccio un veloce riassunto di della live della volta scorsa dove ho spiegato fondamentalmente che cosa sono i segmenti di pubblico e altro non sono che dei raggruppamenti di persone che google ha già confezionati e sono pronti da utilizzare per le nostre ads oppure che creiamo noi in base a tutta una serie di condizioni faccio degli esempi giusto sempre in modo super veloce perché poi voglio andare a parlare di queste esplicite novità ma un classico segmento di pubblico è il segmento di pubblico di remarketing di coloro che per esempio hanno visitato il nostro sito entro un tot giorni che definiamo noi oppure un segmento di pubblico in market potrebbe essere quello che tutti coloro che stanno cercando non so un'auto un articolo fashion abbigliamento da donna abbigliamento da uomini questi sono degli esempi di segmenti di pubblico tra le novità che ha sfornato negli ultimi mesi google e che sono sicuramente da provare ci sono i segmenti di pubblico di affinità che esistono da un bel po' ma finalmente sono utilizzabili nelle campagne search ci sono i segmenti di pubblico e market degli eventi stagionali google ci ha dato anche la possibilità di combinare i vari segmenti di pubblico in modo da creare un segmento pubblico ad hoc per le nostre campagne usando i vari operatori boleani quindi and or e nor scusate and or e not ho detto una stupidaggine non è nor ma è not che è un altro operatore e poi altra novità dei segmenti di pubblico che al momento io ho visto ancora in uno screenshot su linkedin ma che non so io sono sfigato nel rollout li becco sempre per ultimo le novità di google però penso che a breve vedremo sono dei nuovi segmenti di pubblico per gli eventi importanti della vita quindi fatto questo cappello introduttivo andiamo a parlare di degli argomenti di oggi ovvero di due di queste quattro unità di cui voglio parlare ovvero i segmenti di pubblico di affinità per le campagne per le campagne search e i segmenti di pubblico in market di eventi stagionali segmenti di pubblico di affinità per le campagne search premetto che segmenti di pubblico esistono da un bel po però prima erano utilizzabili solo per le campagne display e per le campagne youtube o video ma non erano utilizzabili nelle campagne search questo che cosa questo che cosa significava che noi le campagne search potevamo utilizzare solo i segmenti market cioè coloro che stanno pianificando o cercando uno specifico prodotto e servizio ma il segmento di pubblico è un po' diverso di affinità rispetto a quelle market è un po' diverso perché non riguarda dell'utente che ha uno specifico intento di ricerca ma riguarda una macro categoria di persone per farvi un esempio per farvi capire meglio di cosa sto parlando potremmo paragonarle devo usare chiaramente il condizionale perché si parla di un'altra piattaforma a degli interessi broad di facebook cioè sono gruppi di categorie di persone se andate nella piattaforma google ads e prendete il diciamo il secondo menu sulla sinistra quindi non l'elenco delle campagne ma l'altro menu quello che sono panoramica gruppi di annunci campagne eccetera eccetera lì trovate segmenti di pubblico aprite quella tab e vedrete che potrete aggiungere alle vostre campagne dei segmenti di pubblico in targeting o in in osservazione poi vi spiego dopo l'ho spiegato anche nell'altra live qual è la differenza fra queste due cose ma in questo momento mi interessa per spiegarvi bene cosa sono i segmenti di pubblico di affinità fondamentalmente possiamo raggruppare delle persone in base a queste categorie predefinite di google per esempio troviamo tra gli acquirenti acquirenti di beni di lusso acquirenti di prodotti ad alto valore cacciatori di affari oppure potremmo ciao danilo benvenuto alla live oppure potremmo trovare per esempio chi mangia spesso fuori chi usa spesso il taxi gli amanti dei libri chiaramente stiamo parlando di macro categorie di persone che però ci consentono non solo di targettizzarle ma anche in un secondo momento sempre valutando i dati che ottengo di addirittura creare delle ads specifiche o delle lending addirittura specifiche per quel segmento di pubblico perché come dico sempre adesso siamo in grado di targettizzare le persone fondamentalmente quindi come vi dicevo prima abbiamo questi segmenti di pubblico da poter utilizzare e come i segmenti di pubblico e market e come tutti gli altri segmenti li possiamo utilizzare in targeting e in osservazione questo l'ho spiegato anche nella live scorsa ma ha ripetito ai uvanti o sostengo e quindi loro spiego questo concetto cosa significa in targeting o in osservazione? è la prima selezione quando avremo segmenti di pubblico in targeting significa voglio coloro che ad esempio per una campagna search hanno digitato solo quella specifica parola chiave e appartengono solo a quel segmento di pubblico quindi il target è stretto voglio solo esattamente quel segmento se tu non appartieni a quel segmento di pubblico anche se digiti quella parola chiave non vedrai i miei annunci in osservazione cosa significa? in osservazione significa che io voglio prendere tutti coloro che digitano quella specifica parola chiave ma i dati di chi fa parte di quel segmento di pubblico quindi il CTR, il numero dei click, le impression, la quota di mercato le conversioni, non ci dimentichiamo la cosa più importante, le conversioni le voglio separate rispetto agli altri utenti in questo modo posso capire se coloro che fanno parte di quel segmento di pubblico che apparentemente potrebbe essere un segmento di pubblico importantissimo in realtà sta performando meglio o peggio rispetto agli altri utenti e un esempio, vediamo se ci sono commenti, no, non mi sembra ci siano commenti o domande ne approfitto per ricordarvi che se avete domande, se avete dubbi, se volete chiedermi qualcosa anche che non c'entra nulla con segmenti di pubblico di Google Ads sono a disposizione e quindi approfittatene se volete chiedermi qualcosa se non è chiaro, se non sentite, sono sempre a vostra disposizione detto questo, un esempio, ho un cliente che lui si occupa di arredamento per esterni e gli articoli sono high ticket, sono di un valore abbastanza elevato il primo problema che ci si presenta è che per esempio se io scrivo sdraio o lettino per esterno per terrazzo molto probabilmente sto cercando un prodotto che da grande magazzino in plastica da 10-20 euro e quindi come faccio a differenziare questo prodotto da 10-20 euro contro quelli del mio cliente che magari vende prodotti di una certa qualità usando dei materiali di alto livello, usando un designer comunque un prodotto sicuramente di alta fascia che ha un costo non da 10-20 euro e che sicuramente non trovo nei grandi magazzini come faccio a differenziarli? ebbene, a questo punto ho i segmenti di pubblico aggiungo in osservazione, come vi dicevo prima acquirenti di beni ad alto valore o acquirenti di beni di lusso ora, non è scontato che queste due categorie performino bene ma a me mettere un flag e avere il dato in maniera separata rispetto alle altre, a chi cerca genericamente sdraio o lettino sicuramente non costa nulla un domani tra un mese, tra 15 giorni poi dipende ripeto dalla campagna specifica in questo caso penso che comincerò a tirare le somme tra un mese, un mese e mezzo perché un'altra cosa che non ci dimentichiamo è non faccio una modifica e domani vado a vedere risultati perché i risultati non mi diranno niente bisogna aspettare sempre la statistica è data da un determinato set di dati se ci ho 100 impression e 3 click non posso dire bene, male non posso dire assolutamente nulla quindi, fra un mese e un mese e mezzo vado a vedere i risultati che ho ottenuto e a questo punto potrei decidere fondamentalmente di creare fondamentalmente un semplice aggiustamento di offerta su dei segmenti di pubblico messi in osservazione oppure addirittura staccare le due campagne e fare degli annunci ad hoc ciao Valerio, benvenuto grazie per la partecipazione sono felice che anche tu stia guardando questa mia live e niente vi stavo dicendo quindi dipende un po' dalla campagna stessa però sicuramente avere il dato separato di questi segmenti di pubblico è un'ottima base di partenza per ragionare sia a livello tattico cioè stacco la campagna creo degli annunci ad hoc lavoro solo di aggiustamento della detta o anche a livello strategico cioè comincio a lavorare ho questo gruppo di utenti che mi performa bene e allora forse la landing la pagina di atterraggio la pagina di dettaglio prodotti la faccio sulla base di questo specifico gruppo di utenti chiaramente sono discorsi di tipo strategico però vanno affrontati per questo quando uscì questa novità io vi parlavo che Google alza davvero secondo me l'asticella delle performance ora chiaramente non è tutto orocolato quello che pubblica Google però sicuramente fare delle prove avere dei dati e poi ragionare di conseguenza è la migliore prassi che mi sento di adottare quindi vi ho parlato dei segmenti di pubblico di affinità se avete domande sono benvenute se non avete vado continuo vi voglio parlare degli eventi stagionali cosa sono gli eventi stagionali o meglio i segmenti di pubblico e market per gli eventi stagionali scusatemi un attimo ne approfitto un secondo per bere un bicchiere d'acqua una bottiglia bevo dire attenzione alla bottiglia e quindi vi dicevo vi parlo adesso degli eventi stagionali sempre verso novembre guarda caso poco prima del Black Friday Google ha rilasciato gli eventi stagionali segmenti market in pratica ha rilasciato quattro categorie di pubblico dei segmenti market e che sono fondamentalmente riferite all'evento natale all'evento Black Friday alla festa della mamma e al rientro a scuola partiamo da questo presupposto cosa sono i segmenti market credo che quasi tutti voi li conosciate e se non li conoscete Houston abbiamo un grosso problema perché altro non sono che dei segmenti di pubblico già pronti per categorie merceologiche che riguardano coloro che stanno attivamente cercando un prodotto servizio per comprarlo oppure stanno pianificando il loro acquisto capite benissimo che se avete un e-commerce che vende un determinato specifico prodotto e non state utilizzando quel segmento di pubblico già pronto già confezionato di Google beh secondo me vi state perdendo state lasciando dei soldi sul tavolo non sto dicendo che funzioneranno sempre in ogni caso ma sicuramente provarli e utilizzarli io almeno generalmente ottengo degli ottimi degli ottimi risultati quindi sulla base di questo concetto quindi dei segmenti di pubblico e market Google ha realizzato coloro che stanno pianificando di comprare un prodotto per esempio per il Black Friday per esempio per Natale per esempio per la festa della mamma o per esempio per il rientro a scuola e all'interno di queste categorie trovate delle sottocategorie per esempio per gli acquisti Natale trovate acquisti Natale online acquisti Natale offline e acquisti dopo Natale per i saldi insomma periodo di saldi aggiungere questa categoria in osservazione e fare un aggiustamento di offerta secondo me non è proprio una cosa da sottovalutare vi faccio l'esempio di quello che ho fatto io per gli acquisti del Black Friday ripeto si trattava di una novità ma appena l'ho letto ho detto subito per il Black Friday credo che li hanno rilasciato una decina di giorni prima ora non ricordo esattamente ho preso tutte le mie campagne di Unicommerce e li ho aggiunti in osservazione mettendo un aggiustamento dell'offerta del 30% in pratica dico a Google di aumentare l'offerta che sia un CPC o un CPA a secondo di come è stata la campagna del 30% se quella persona appartiene a quello specifico segmento di pubblico in pratica scusatemi quando una persona che appartiene a quel segmento di pubblico digita quella specifica parola chiave o comunque fa parte di quella campagna vedrà il nostro annuncio e probabilmente il nostro annuncio avendo l'aggiustamento di offerta probabilmente vincerà più assi sarà più visibile sarà più in alto eccetera eccetera i risultati che ho avuto in questo account sono stati che in una campagna i dati sono stati decisamente superiori rispetto alle altre campagne e quindi avevo un tasso di conversione un ROAS molto più alto rispetto agli altri a chi non apparteneva a quel segmento di pubblico mentre nelle altre campagne non ho notato aggiustamenti significativi quindi come dice anche il grande Valerio Celletti che ci sta seguendo AdWords è una maratona si vince nel tempo quindi faccio tesoro di questo e l'anno prossimo quando mi si presenta quell'occasione in quella campagna dove ho ottenuto le performance migliori aumenterò il segmento aumenterò da un più 30% l'offerta magari farò un più 50% o addirittura comincerò a pensare se staccare una campagna e creare una campagna ad hoc con degli annunci ad hoc per il Black Friday questo lo vedrò negli altri deciderò se fare un aggiustamento lieve di offerta oppure mantenerli semplicemente in osservazione questo chiaramente lo vedrò l'anno prossimo ma sicuramente è un'opportunità molto molto importante da sfruttare altra cosa che ci tenevo a dirti ai segmenti pubblico stagionali qualcuno potrebbe pensare che per risparmiare budget magari a ridosso di quell'evento quindi del Black Friday targettizzo solo chi fa parte di quel segmento di pubblico questo a mio parere potrebbe essere un errore ma l'ho visto anche nei dati perché Google per quanto preciso per quanto abbia una mole di dati infinita non può sempre mettere tutti coloro che stanno cercando un prodotto dentro quel segmento quindi il rischio è di perdere qualche opportunità quindi utilizzateli in osservazione o se lo utilizzate in target questi segmenti di marche non vi dimenticate di creare la campagna complementare di coloro che non fanno parte di questo segmento ma comunque vi date anche su quelli io direi che per quanto riguarda i segmenti in market stagionale e i segmenti mi sono imbrogliato e i segmenti di pubblico in affinità nelle campagne search credo di aver detto tutto quello che mi è venuto in mente se avete domande sono ben accette se non ci sono domande direi che non ci sono domande mi sembra di vedere direi che vi saluto qui e ci vediamo alla prossima live dove vi parlerò appunto delle altre due novità che sono in pratica la possibilità di creare un audience combinata con i segmenti di pubblico e dei nuovi segmenti di pubblico per gli eventi importanti della vita che tra parentesi è una novità che io ancora non ho nei miei account ma ho visto uno scritto ed è giusto sempre guardare avanti guardare a tutte le novità che dire grazie a tutti per la diretta spero vi sia piaciuta e ci vediamo al prossimo giovedì un saluto e ci vediamo al prossimo giovedì